Musica Ben ritrovati da Alessio Grosso, dunque cancellata la neve, boom, di colpo la primavera sulla Lombardia e in genere sul nord Italia, ma anche al centro, mentre ancora si attardano gli effetti della perturbazione transitata a mercoledì sulle estreme regioni meridionali. Cosa succederà nei prossimi giorni? Cosa succederà per la Pasqua? È quello che cercheremo di scoprire insieme in questa ricca puntata di Meteo Live Weekend. Ebbene, apertura dedicata a questo eccezionale risveglio odierno sui cieli del nord Italia. Qui siamo a Venezia, in piazza San Marco, anche qui cieli finalmente sgombri di nubi, una bella giornata mite e gradevole, ideale per una passeggiata o per un caffè in piazza. Stessa situazione anche a Milano, qui ulteriormente ingentilita dal Fön, che ha soffiato soprattutto in mattinata, portando la temperatura pomeridiana a sfiorare i 20 gradi in città. Ebbene, è una situazione temporanea di miglioramento perché persiste questa grande variabilità che non interessa ovviamente soltanto i cieli italiani, ma un po' tutta l'Europa. E la neve, la neve tardiva è arrivata anche a Pechino. Una situazione che per la città cinese non è certamente una novità in inverno, ma la novità è venuta dal fatto che era una neve inquinata, particolarmente inquinata, impregnata di sabbia e di sostanze grigiastre, che altro non erano che lo smog. Sono caduti quindi 10 centimetri che le autorità hanno consigliato assolutamente di non mangiare. Ha detto ai bambini non mangiate la neve perché? Perché Pechino, come sapete, è una delle città più inquinate del mondo. Addirittura nel mese di gennaio abbiamo avuto 896 microgrammi di PM2.5, quindi queste particelle finissime hanno surclassato i valori più pesanti presenti nelle nostre città italiane, Milano in primis. Quindi, vedete, ci sono persone, città che stanno peggio di noi, Pechino è una di queste. Ma passiamo alla sinottica prevista per i prossimi giorni. Ebbene, per il sabato, vedete cosa succede, c'è stata questa tregua, ma la tregua è di breve durata. Come abbiamo detto c'è grande variabilità, arrivano altre perturbazioni, guardate quei vettori, quell'aria fredda presente sul nord-est europeo sarà quella che anche la prossima settimana potrebbe portare situazioni invernali su gran parte dell'Europa, compresa l'Italia. Quindi ci apprestiamo a vivere una settimana santa decisamente variabile e turbolenta. Intanto, peggioramento per il fine settimana, purtroppo, a partire dal nord Italia e dal sabato pomeriggio. Eccole le precipitazioni di sabato pomeriggio. Al nord risparmiano ancora le altre regioni, ma poi si faranno strada verso sud. Il sabato pomeriggio, quindi, dopo una mattinata incerta, arriveranno le prime piogge su Levante Ligure, Emilia Romagna e poi anche sull'Alta Toscana. Proseguendo poi per la giornata di domenica, la mattinata vedrà le piogge su quasi tutto il nord, la neve sulle Alpi intorno ai 1000-1300 metri. Le precipitazioni poi nel corso del pomeriggio e in serata, con la prossima grafica, le vedremo muoversi rapidamente, vedete, verso tutto il nord. E c'è una lingua precipitativa che poi raggiungerà anche le regioni centrali, facendo scoppiare anche dei temporali. Quindi, purtroppo, nuova degradazione del tempo, una pausa primaverile decisamente illusoria. Tuttavia, come ripeto, tempo all'insegna della grande variabilità anche nei giorni successivi. Perché durante la settimana santa, vedete, c'è questa massa d'aria fredda anomala per il periodo, ormai siamo alla fine di marzo, che si estende, pensate, fino alle isole britanniche, portando a metà della prossima settimana ancora la neve su Londra e probabilmente ancora la neve su Parigi. E sull'Italia, beh, sull'Italia poi ne riparleremo, ma è possibile che anche per il nord Italia ci sia un'ultima bianca sorpresa tardiva, soprattutto per le zone collinari. Ne parliamo dopo, adesso andiamo a vedere la curiosità della settimana. Ebbene, arriva la primavera, arriva la primavera e naturalmente succede che ci sono gli altocumulus stratiformis, che si chiamano, altro non sono, il cielo a pecorelle che tutti conosciamo. Sotto il cielo a pecorelle qui vediamo delle nubi cumuliformi, delle nubi temporalesche. Quindi cosa significa? Che quando compaiono queste nubi c'è instabilità dell'aria, che una volta dissolto si può far fiorire cumuli molto grandi e portare dei temporali. Ma non solo temporali, perché questi altocumuli preannunciano un aumento dell'instabilità e anche dell'umidità. Le medie quote possono preannunciare non solo situazioni piovose estive, ma anche l'arrivo di perturbazioni molto piovose anche durante l'inverno e l'autunno. Quindi sono sempre un segnale di tempo instabile, inaffidabile. Quindi il proverbio cielo a pecorelle, acqua a catinelle ha assolutamente un grande valore. Sarà un venerdì decisamente buono, possiamo dirlo, sarà l'unica giornata veramente buona sull'insieme del paese, magari non così limpida come quella di oggi al nord, ma sicuramente sarà una giornata con un po' di nubi, più un po' di sole, ma con prevalenza di bel tempo e temperature decisamente miti dalle Alpi alla Sicilia. Un po' di nubi soltanto sul settore alpino, forse sulla Liguria e sulla Toscana, ma ripeto, senza conseguenze. Andiamo a vedere il sabato invece, dove noteremo già le prime nubi che arrivano, non solo le prime nubi ma anche le prime piogge dal pomeriggio, come abbiamo visto dalle carte precedenti. Piogge al nord, in particolare tra la Liguria di Levante dal pomeriggio e l'Emilia Romagna, poi anche sulla bassa Lombardia e sul basso Piemonte. Insomma, si prepara un peggioramento che si materializzerà anche sulla Lombardia. Infatti, se andiamo a vedere l'immagine riferita alla carta Lombarda, vedete, dopo una mattinata con qualche schiarita ci sarà un aumento della nuvolosità e dal pomeriggio le prime precipitazioni, più importanti poi verso sera, quando raggiungeranno anche Alpi e Prealpi, sotto forma di neve oltre i 1200 metri. Vediamo anche la domenica, anzi le temperature, scusate, del sabato, per notare la differenza notevole tra i valori previsti al nord, che saranno in calo nuovamente sotto i 10 gradi, e quelli previsti molto miti sulle estreme regioni meridionali, addirittura punte anche superiori ai 20 gradi sulla Sicilia. Passiamo adesso sì alla domenica, per vedere il peggioramento, concretizzarsi ulteriormente al nord, qui le piogge non saranno più sparse, ma saranno estese, diffuse e persistenti per gran parte della giornata, coinvolgeranno come detto anche la Toscana, poi anche il resto del centro, e in serata raggiungeranno le regioni meridionali, quindi fino a coinvolgere un po' tutta l'Italia sotto il maltempo, nevicate sulle Alpi, prima intorno ai 1000-1300 metri, in serata poi nuovamente in abbassamento sino a 900 metri, in Appennio tra i 1300 e i 1500 metri, con le temperature in diminuzione. Anche sulla Lombardia, giornata votata al maltempo, si potrà comunque sempre passeggiare e andare al cinema, oppure andare a sciare in montagna, ma la neve cadrà come detto soltanto oltre le quote medie. Non ci resta che vedere cosa accadrà la prossima settimana. Ebbene, si parte ancora male, malissimo, con la depressione che insiste su quasi tutto lo stivale, con piogge temporali e ancora nevicate su Alpi e Appennini a quote medie, un po' più basse al nord. Da martedì c'è una tregua, una tregua per il settentrione con cielo sereno, poco nuvoloso, insistono le piogge al centro e al sud. Per mercoledì e giovedì, attenzione, arriva una parte di quell'aria fredda presente sul centro Europa, si riversa sul nord, possibili nevicate o rovesci di neve a quote collinari, forse qualche fiocco non escluso anche in pianura. I temporali sulle regioni centrali e poi tutto il resto della settimana, c'è un miglioramento tra venerdì e sabato, ma una nuova ricaduta si avvicina per la Pasqua al nord. Del tempo di Pasqua poi parleremo diffusamente giovedì prossimo, naturalmente. Intanto le temperature, inizialmente non succede nulla di che, strane una leggera diminuzione al centro-sud. Poi vedete, per la metà della settimana, qui c'è il misfatto, cioè qui torna l'aria fredda dal centro Europa, tardiva, e provoca una sensibile diminuzione, in particolare al nord, ma presente anche al centro-sud. Poi si risalirà un po' nei giorni prima di Pasqua, in particolare tra il venerdì e il sabato santo, mentre per la domenica di Pasqua arriverà una nuova perturbazione, quindi al nord è attesa anche una nuova diminuzione. Insomma, alti e bassi di una primavera decisamente bizzarra, che si è presentata con tutti i crismi della grande variabilità, che da sempre contraddistingue questa stagione, però insomma, qualche nota lieta l'abbiamo già cominciata ad avere, e non è detto che aprile ci regali altre note liete. Intanto buon weekend a tutti da Alessio Grosso. Grazie a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori.